buonasera caro marco villa ci si vede ci si sente io ho pigiato i tasti giusti io credo quindi siccome ci siamo chissà 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 intanto vorrei far sentire vorrei chiedere ai nostri simpatici follower di indovinare qual è la canzone preferita di sempre di dio castelli che è questa dai dai non fare con la faccia la so io pensate a un dio castelli adolescente sui pullman di cinisello balsamo anna oxa ma come la pausini ha vinto martina bravissima la pausini strani amori di laura pausino però conosco strani amori non mi ricordo che iniziava così obiettivamente sì se non scherziamo c'è potete immaginare veramente la sua adolescenza a cinisello balsamo mentre tutti lo perculavano perché lui ascoltava la laura pausini abbracciato un cuscino con sopra laura pausini tra l'altro una roba molto giapponese proprio così è proprio strani amori la canzone perfetta del castelli che descrive la perfezione un po le nostre vite così una frase detta caso bene ciao villa sono contento che l'alcol scorra copioso in casa sua magari magari che gli è date al bambino gli è ficcata magari magari pure quello abbiamo da parlare di un sacco di cose che non sono la pausini esatto prima di tutto questo allora è arrivata mi è arrivata oggi questa tazza di luna nera allora all'inizio ho pensato che potesse essere merchandising per la seconda stagione per fortuna castellini ha confermato che non è previsto una seconda stagione io non ho trovato alcuna notizia in merito e secondo me semplicemente netflix sta cercando di cancellare un po tipo la finale in diretta di masterchef per sky quelle cose che vuoi cancellare dai tuoi database facciamo come se non facciamo come esatto però io non ho idea di chi abbia prodotto questo bello oggettino evidentemente proprio fatto apposta si sente basso castelli si alza subito credo vedi anch'io sento più vita e sapete che prima di entrare era lì che faceva il fighetto ti sento un po rimbombato oggi cosa che problema c'è che problema c'è grande chiara cibi che mi cita mezza gonna che io cerco detto rigorosamente gonna che io cerco di cancellare dalla mia mente ma costantemente in qualche modo mi ritorno esattamente come la melodia di strani amori comunque ho deciso che farò così la puntata adesso dovrebbe essere meglio ma non devi spipolare la tua bella non parlare di spipolare che siamo in diretta cioè guarda le due manopoline che hai sul lato del microfono ma ma in teoria non hanno nessun tipo di attinenza con quella roba lì come no ma no non hanno attinenza con l'audio che entra certo ma no ti dico di no così così no ti dico di no non c'entra niente vabbè vabbè rimetto strani amori ma non rimettere strani amori dai prima si sentiva bene perché ero così comunque prima di venire qua in diretta il castelli stiamo parlando velocemente di una cosa che ha visto il castelli oggi credo o ieri adesso non ricordo che lol sì che diciamo che se il castello non è strettamente seria di solito non ne parliamo infatti non ne parleremo sul sito perché sapete che se iniziamo a parlare anche di quello che non è scripted noi non usciamo vivi da questa faccenda motivo per cui non parliamo dei documentari anche se spesso sono molto belli è un po scritto da un certo punto di vista no però c'era un tema da discutere che secondo me c'entra tanto con le anche con le serie tv o con il modo di approcciare la regione dice qual è questo tema qual è questo tema è semplicemente che oggi ne ha scritto aldo grasso su corriere sì e aldo grasso aldo grasso lol non è piaciuto non gli ha fatto ridere e così quello che poi si è visto però è una una serie di persone di ogni genere grado che semplicemente vanno sui social per dire ok boomer per dire a grasso che non capisce niente a grasso no cioè e tutta questa serie di cose qua e io ci ho trovato quella polarizzazione parola che ormai si usa tanto spesso polarizzazione polarizzazione esatto quella polarizzazione adesso sono io che sento un ritorno terrificante peraltro sì quella fai pace con il buono fai buono era per questo ho fatto una roba qua comunque il castelli si abbassa vertiginosamente dicono è così perché è un uomo che non è un uomo così da che va a picchi nella vita ma no a parte che no come dalle leggiamo il labiale ma ragazzi io qua vedo una roba che però vi avvasso giù non so cosa dirvi onestamente più di così comunque stavo dicendo che il questa polarizzazione che noi abbiamo visto tanto spesso anche nelle serie tv cioè il fatto che una cosa o è da 10 o è da 3 cioè non esiste più la mezza misura ma non so mi dispiace devo andare ma sapevo che ero male scusate non ho resistito dicevi polarizzazione a caso completamente no ma per cui c'è quel tema lì per cui anche il fatto di andare a insultare grasso io non sono d'accordo con grasso tra l'altro mi ha molto divertito lol cioè mi sono divertito un gusto ma detto questo mi sembra assurdo che bisogna andare a dire a uno che ha quell'esperienza lì che non capisce niente fai schifo ma vai a guardare si allo stesso modo allo stesso modo che è un po il controcanto di questo andare a scrivere miglior programma della vita non ho visto niente di così bello ma assolutamente ma posso spezzare una lancia a favore dei miei datori di lavoro se questa roba andava su Italia 1 la gente o uno la guardava o diceva che era una merda e invece no è un programma tranquillo divertente ma per me può anche uno può anche pensare che sia il programma della vita ma sì ma certo non c'è motivo di andare a dire a uno che non gli piace e dire che non capisce niente e siccome noi questa roba sulle serie tv la vediamo in continuazione sì 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 l'ho visto su che fine ha fatto Sara diciamo qualche giorno fa io su che fine ha fatto Sara sulla mia pelle noi lanciamo un po' di appello prendiamo la come dire la scusa di lol per dire ragazzi se una cosa vi piace è una bella cosa se non vi piace non la guardate basta esatto io devo dire che sono partito molto prevenuto nel senso che mi aspettavo fosse una roba che non avrebbe mai fatto ridere in nessun modo con un po' di imbarazzo e tutto invece mi ha molto divertito devo dire non so chi chiedeva sì a mezzanotte dovrebbero uscire le ultime due puntate peraltro a mezzanotte di oggi? cioè sì avevo letto giovedì ma a mezzanotte proprio? eh beh io non so se a mezzanotte non so se sfruttano il metodo Spotify o se sfruttano il metodo impiegato delle poste dipende un po' da quello assolutamente vedere come finisce no ci stavamo dicendo prima dell'inizio della puntata che a noi per esempio che piace abbastanza Luca Ravenna perché seguiamo anche il suo podcast Kashmir e invece in questa c'è in lol e ne è uscito malissimo poverino c'è uno sfigatone evidentemente forse è meno pratico di un'improvvisazione in mezzo agli altri ci sta lui è molto bravo come stand up comedian può darsi che sia così tra l'altro faccio un applauso a Chiara CP che ha beccato la citazione che avevo cercato di fare in maniera pessima perché non ricordavo minimamente la citazione che era le storie tese perfetto così soltanto un applauso e mentre Varas chiede a Castelli hai cagato a parte questo no c'era chi scriveva di Pintus che è pieno di sé e un pochino sì però lì secondo me vedi comunque il professionista perché è uno che all'idea che possa piacere o meno quello che fa io sinceramente non lo conoscevo granché solo di nome non avevo mai visto granché cose sue sì un po' di più ma lì lo vedi che per tutto il tempo in quelli non si ferma mai cioè una dietro l'altra a manetta di qualsiasi cosa ci sono tanti che ogni tanto si estragnano perché stanno pensando a cosa faranno Pintus mai per cui su quello su quello veramente veramente bravo va bene possiamo andiamo oltre cosa dici andiamo oltre mi piace molto il tuo multitasking perché sei stato perfettamente all'interno della puntata finora pur continuando a cercare altre robe assolutamente assolutamente io invece mi devo concentrare soprattutto per tenere sul microfono quindi vedi tutto ma toglilo scusa vai direttamente proprio da stand up vai direttamente così scusa vai proprio togli la base fai così ti appoggi a un finto a un finto a una puntata tolgo la base devo svitarlo madonna mia madonna mia allora dunque allora aspetta non ti vedo aspetta eh non ho capito vabbè comunque Castelli ci teneva oggi a parlare dei sag i sag i screen actors guild awards metto un conto per pochissimo perché ci serve ok sono un po' i premi della cgl degli attori in sostanza nel senso la gli iscritti all'albo degli attori statunitensi che ogni una volta all'anno si danno i loro bei premietti è un istante che dico che la gente dice che non cambia niente con il mio microfono suo con il mio microfono giù io ragazzi giuro che non so cosa dire Castelli non so cosa dire a te francamente cioè è un mese è incredibile come ogni volta ci sia una roba nuova adesso sto aggiungendo dei decibel a livello scusa prova a staccare il rode e vai avanti con le cuffiette basta ma sei impazzito completamente pure ti dico io cosa succede stai passendo stai passando dalle cuffiette e non dal rode vabbè vabbè comunque varax giustamente dice erica brù dice cuffiette non so per dirti se per dirti metti le cuffiette oppure no comunque se per caso vuoi fare degli esperimenti mettiamo tutta la pausini e tu hai ancora tipo tre minuti e venti per fare gli esperimenti no perché c'è scritto rode qui e quindi ma non è che stai usando il microfono delle cuffie siamo arrivati tutti alla stessa conclusione in due minuti dai prova prova ma prova allora ho staccato ho staccato le cuffie e adesso credo di non sentirti più a te ditemi se hai cambiato qualcosa ditegli qualcosa la willy dice se ti può consolare io ti sento perfettamente no non cambia niente è uguale quindi puoi rimettere le cuffie ho rimesso le cuffie ho rimesso le cuffie e adesso ti sento e beh perché avevi staccato le cuffie vabbè comunque sì i sag SAG immagino SAG awards sono esattamente la fotocopia degli Emmy non è successo non hanno dato nessun premio particolarmente forte o diverso dagli Emmy giusto ho zar che si è portato a casa con Jason Bateman l'attore sì e forse basta perché poi c'è questa Schitt's Creek che ormai noi abbiamo dato per dispersa perché è finita per cui non la recupereremo e mi piace che nell'elencone che mi ha messo il castelli di tutti i premi dati si conclude con migliori controfigure televisive e qua vedi proprio il fatto che stiamo parlando della CGL perché qui c'è la sottosigla sindacale degli stuntman che nel corso degli anni e dei decenni ha ottenuto di avere un premio soltanto per loro per il duro lavoro che fanno sì 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 è una bella cosa io quello che volevo dire a proposito dei SAG erano sostanzialmente due cose la prima è che ho messo la foto di Gillian Anderson perché che ora toglierò perché lei ha vinto ma c'è stato di nuovo la stessa cosa un filino imbarazzante che avevamo visto i Golden Globe cioè la gente che si veste benissimo a casa sua per partecipare da casa sua ai SAG che io alla fine non so se è meglio come Jason Sudeikis che si è rappresentato in pigiama ai Golden Globe cioè non so cosa è meglio tra le due cose forse una via di mezzo perché a me l'idea di questa gente che si veste così a casa sua e fanno le foto nel loro giardino tipo che è una roba tristissima io me lo vedo con i figli che gli dicono mamma come stai bene esci? e gli dici no vado sul computer vado sul computer e finita la diretta controllo se il signor Armani mi ha mandato il bonifico però per cui secondo me c'è anche quel retro discorso lì eh diciamo direi che questo discorso può essere serenamente concluso qui in questo modo e bene possiamo passare oltre lo farai anch'io a questo punto anzi grazie ma allora la domanda è ma Jason Sudeikis non lo caga nessuno? nessuno evidentemente ma poverino Ted Lasso evidentemente nessuno fate qualcosa vabbè comunque vabbè passiamo oltre passiamo oltre vogliamo parlare di due trailer questa sera che sono usciti oggi sono due trailer a tema supereroismo quindi assolutamente il mio campo per cui Diego scusa se mi permetti voglio presentarli io perché so tutto quello che c'è dietro questi trailer e queste serie puoi presentare come se li facessimo vedere ti pare che io provo a mettere su un trailer adesso ma non scherziamo non so vabbè poi sono lunghissime sono robe da oltre due minuti comunque il primo trailer di cui parliamo è quello di Loki Loki che è l'ennesima serie Marvel Cinematic Universe che arriva su Disney Plus non mi ha messo la data però Castelli malefico no è stata rimandata ulteriormente credo si parli di luglio eh ok vabbè comunque nel senso arriva quindi entro l'estate c'è il buon Tom Hiddleston che interpreta Loki come già nei film Marvel e abbiamo soprattutto un ottimo Owen Wilson che io nel trailer avevo scambiato per Nick Stokes di CSI Las Vegas in un primo momento non chiedermi perché senza alcun senso forse perché stavo già pensando che canzone mettere per i castelli a un certo punto ti dovrà fallire il cervello di fronte a questa cosa allora io come ho già detto più volte sia nel podcast che in queste in queste serate io non ho idea di niente di ciò che è accaduto nei dieci anni precedenti all'interno dei film Marvel per cui non so nulla di Loki se non che quello un po' pazzerello giusto un po' è un po' così secondo me la cosa di Loki interessante è che lui era il cattivo cioè lui è stato proprio un cattivo ma alla fine era così amato e Tom Hiddleston è così simpa obiettivamente cioè non ce la fa ad essere proprio un cattivone non è Danny Tray io voglio dire e quindi alla fine in qualche modo cercano di ritirarlo dentro l'hanno già fatto con con Thor in modo cioè non con gli Avengers ma quindi con Thor che comunque era più simpatico e ora praticamente diventa il protagonista e cerca di sistemare dei casini da lui stesso creati quando ha rubato il Tesseract allora sì devo dire che pur non avendo appunto questa nulla di background alle spalle ho percepito un po' questo filone Loki supereroi pasticcione che comunque fa abbastanza ridere mi ha fatto ridere mi piace molto questa cosa di Loki supereroi pasticcione sì e comunque mi ha interessato sarà che comunque c'è sempre il discorso di variazioni temporali che sono sempre qualcosa che mi tira dentro in qualche modo questa scena è troppo come se avessi in mano un bicchiere di whisky on the rocks mi fa molto ridere sì tra l'altro pieno di cavi assolutamente pieno di cavi lo tengo così no perché mi voglio proprio appoggiare la schiena io ve lo dico sappiamo che nel 2021 questa sera il 7 aprii 2021 Diego Castelli ha collegato il suo computer con il cavo LAN come se fossimo nel 2001 perché così va più veloce la rete ecco la prima veloce nel 2021 siamo a questo la fibra tutto questo per una migliore connessione poi non si sente il microfono poi non si sente il microfono cioè io vabbè io rinuncio comunque no comunque devo dire che a me è piaciuto molto il trailer io devo dire aspettative sono molto alte su questa serie dopo che Falcon and the Winter Soldier non dico che mi sta deludendo ma non mi sta entusiasmando lo sai che non la guarderò alla fine no vai tranquillo Loki ho punto all'entusiasmo ma poi c'è un Wayne Wilson ascolta nel momento in cui c'è un Wayne Wilson secondo me l'entusiasmo deve essere sì voglio tanto bene un Wayne Wilson anch'io ma come fai a volergli male dico io sì 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 assolutamente 5 film di Owen Wilson comunque se vai a cercare eh? 5 film di Owen Wilson ti presento i miei pallottole cinesi due cavalieri a Londra midnight in Paris e vabbè bastano anche 4 me ne viene un altro non avrei saputo dirne forse due io per quanto benissimo per quanto mi piaccia molto esatto e tra l'altro mi dicono e questo lo vai a cercare tu per evitare che il mio computer esploda che dicono che in realtà Loki se lo ricordavano ancora giugno vai un po' a vedere va vai un po' a vedere è arrivato comunicato stampa è arrivato oggi su Loki aspetta che controlla addirittura è certo potenti mezzi Loki mentre tu cerchi questa cosa io dico che in realtà è uscito anche il 3 11 giugno 11 giugno allora rimaniamo sui supereroi dai di quello che devi dire del secondo i Tenenbaum mazza come si fa a non citare i Tenenbaum ma minchia certo giusto 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 il secondo è Jupiter's Legacy Jupiter's Legacy bello sì dai un bel nome Jupiter's Legacy che oggi quando l'ho tradotto col traduttore normale mi ha sentito l'eredità di Giove Giove che comunque è bello deve essere un bel film un po' ospitex secondo me però bello Saturno contro e poi c'è l'eredità di Giove l'eredità di Giove con Stefano Accorsi con Stefano Accorsi assolutamente con un carrello molto veloce intorno a un tavolo molto molto veloce va bene comunque dal 7 maggio su Netflix Jupiter's Legacy che se Loki era il supereroi pasticcione qua sono supereroi irritanti secondo me questa voglio mettere la foto perché è nuova non l'abbiamo mai fatto vedere questa cosa tu parla intanto io lo cerco dicevo supereroi irritanti perché allora quello che ho capito a parte il pacco pubblico che si vede aspetta sono ancora su Gillian Anderson c'è il pacco pubblico c'è un signor sospensorio effettivamente c'è un signor sospensorio sì 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 c'è anche Gianluca Vacchi sulla destra peraltro è proprio lui comunque il problema di Jupiter's Legacy secondo me è che tipo dopo 30 secondi del trailer 40 secondi del trailer fanno capire da subito che c'è uno scontro generazionale tra vecchia guardia di supereroi e loro figli che dovrebbero prima o poi prendere il posto poi una contestualizzazione seria questa cosa la do va bene però allora dopo 40 secondi c'è uno dei supereroi giovani che parla con uno dei vecchi forse un suo zio non il padre e questo vecchio gli dice ah avresti dovuto vedere tuo padre quando era giovane cosa faceva il figlio risponde eh zio non lo so sai non me lo ricordo tanto il papà quando ero piccolo lui era sempre in giro a salvare il mondo e a me su questa roba è crollato tutto ma cosa cazzo sta dicendo ma cosa vuol dire mio padre è in giro a salvare il mondo è un supereroe cosa deve fare nella vita stare lì a farti addormentare è un supereroe che poi teoricamente tornano anche in fretta perché volano molto svelto dai comunque lì mi è chialato subito l'interesse per la serie poi andando avanti nel trailer devo dire che non mi è mai risalito mi sembra un po' una rottura di palle dal trailer diciamo la contestualizzazione seria che non vuol dire che salva una serie di cui abbiamo visto giustamente un trailer è che questa siamo noi e lo aspetti ad un telefono questo che aspetti dal telefono è il papà supereroe che non torna a casa comunque alla fine sei tu quello che c'ha la roba così sul telefono io questa cosa vorrei sottolineare io non ce l'ho non saprei dove metterla comunque no questa è la prima serie che viene da Mark Miller che è il creatore del fumetto che è lo stesso creatore di Kikess lo stesso creatore di Kingsman e questa è io non l'ho letto non voglio fare saccente per niente però dicono che è una delle sue cose migliori questa cosa di questi supereroi vecchi che si scontrano barra devono avere a che fare con la generazione di supereroi giovani che se vuoi è un dare un realismo a un mondo di supereroi che per chi lo vive vivi Batman e Superman che sono in giro a 60 anni ma si fa sempre finta che ci abbiano 30 40 50 anni al massimo qua invece si cerca di vedere cosa cosa succederebbe veramente ripeto è una delle delle opere più famose più amate di Miller è un fatto che a me il trailer non è dispiaciuto nella misura in cui a me i supereroi anche seri vanno bene devo ammettere che questa immagine nello specifico dai mette in scena dei costumi su cui secondo me si poteva lavorare leggerissimamente di più sembrano usciti da Minecraft dai poi io non lo so se sono credo che siano abbastanza fedeli la parte fumettistica ma come diceva Wolverine no come diceva cioè come facevano a fare la battuta Wolverine nel primo X-Men che erano vestiti di nero lui giustamente diceva una roba tipo ma che devo andare in giro vestito di giallo e nero perché sapeva bene che l'esatta trasposizione di fumetti forse non sarebbe stata una cosa migliore grandissimo commento di Kind of Spark a me Giunone punto di domanda sì non so se si ha un'idea sembra una che deve andare a fare un corso di ginnastica dolce è perfetto va a farlo spinning con le amiche sì e che ha molto paura del covid tra l'altro perché non ha un centimetro di pelle che sia libero a parte la faccia su cui immagino metterà una grande maschera e vabbè il problema quando aumenti il volume per sentire il castello è che poi da pausini parte tutto il volume ma non è un problema cara Paola V è solo un vantaggio questo dovresti essere contenta sai cosa faccio lo dico chiaramente abbasso te invece di alzare me abbasso te così no ascolta io abbasso te così tutti alzano il volume e io e te non siamo diversi devono solo alzare loro il volume ma io e te siamo tutti e due bassi anche la pausini ok quindi scarichi sui nostri amati ascoltatori un problema che tu non hai saputo risolvere esatto sei l'esatta rappresentazione dei governi di 70 anni di questa repubblica benissimo va bene a caso andiamo avanti no perché nello stesso momento in cui tu dicevi questa cosa l'Alebru dice ma non è democratico quindi improvvisamente c'è un attacco politico ai miei danni abbastanza importanti esatto comunque no finiamo il capitolo trailer io volevo dire una cosa che era questa che era uscito anche il trailer della terza stagione di Pose Pose ah già la terza verso la seconda così ma non solo già la terza la terza è ultima perché è stato annunciato prima della messa in onda che sarà l'ultima c'è stato un po' di dispiacere per questo fatto in tutta onestà e no sai cosa più che altro non mi è chiaro se sono stato in grado di girare un finale finale questa cosa mi è sfuggita addirittura eh no penso di sì perché si sa da un po' in realtà ma covid problemi covid secondo me no secondo me era poco vista te lo dico con sincerità cioè la sua nicchia è molto appassionata ma è una nicchia vera secondo me a sto giro sì 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 e quindi che credo sia comunque costosetta come serie c'è un bel beh sì c'è un po' spizzichi bocconti però sì la vedi che è ricca come serie la ricca poi è metata nel passato il che vuol dire che non è che puoi prendere la prima cosa che passa di lì devi metterci un po' di tempo costumazioni sì 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 è una roba un po' seria e quindi temo sia quello lì il tema ma tanto Ryan Murphy ne aveva pronte altre otto mi chiudete quella c'è nessun problema ma io ne ho altre dodici quindi va bene invece farei un piccolo momento un po' così contrizione perché ho visto che è morto Paul Ritter che se lo dici così non hai la minima idea di chi sia oggettivamente ma ora noi lo facciamo vedere poi fa vedere la foto del suo ruolo in Chernobyl senza sospensorio per fortuna e subito capisci e un po' ti viene male lui Paul Ritter sì 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 ma lui ha fatto tante cose ha fatto Harry Potter ha fatto me l'ero segnato me l'ero segnato perché ovviamente la mia conoscenza aveva fatto quanto Mossolas no no era chiaramente un po' un caratterista cioè non il protagonista di tutte le cose e infatti anche in Chernobyl però in Chernobyl era amabile amabile nel suo essere detestabile come sempre come sempre succede con quelli con quelli bravi che si fanno odiare diciamo Kind of Spark intanto Ugo dice adesso si sente meno il Villa giustamente perché questa è l'idea di democrazia e apertura che ha il Castelli per sbaglio ti ho anche tolto per un attimo la faccia ecco comunque dice Kind of Spark ti rialzo un pochino c'è una serie orrenda devo fare la recensione usando soltanto canzoni della Pausini purtroppo non ho questa competenza ma ci proverò ti stai un po' dando lo zappone sui piedi perché ora sei tu che passi per quello il grande appassionato della Pausini assolutamente no sappio sappio allora andiamo avanti invece dopo questo momento mestizio secondo me non c'è tanto l'Alebrudice Castelli mi sei bravito in cuffia basta ti va comunque c'è un problema tuo è evidente ma che ci sarà sarà evidente secondo me a questo punto è un problema di cavetteria è un problema di cavetteria? sì che magari ti sgancia un po' il rode può essere vabbè può darsi allora lo metto giù guarda lo metto giù e sto così può essere perché il problema del rode che è un ottimo microfono è che danno in dotazione un cavo che ha questa lunghezza per cui resta sempre estremamente piegato che lungo 8 metri resta sempre estremamente piegato per cui un po' appesantisce il tutto e qualche problema lo crea comunque andiamo avanti dicevo dopo un momento mestizia non c'è niente di meglio per cacciare la mestizia che ha un po' di sano odio e non c'è niente di meglio che odiare la nobiltà inglese come se fossimo come se fossimo in un podcast di Barbero sulle rivolte dei contadini inglesi ma poi scusami nobiltà inglese beh insomma ormai la fu ex nobiltà inglese è certo è certo dici perché dobbiamo odiare questi due ricconi sfondati che rompono le palle da mesi sapete bene allora sapete bene che uno dei motivi per cui i due Harry e Meghan hanno mollato la loro posizione all'interno della casa reale britannica è stato il fatto di voler stringere accordi con dei brand fondamentalmente tra questi brand hanno stretto un accordo importante con Netflix non so se erano uscite le cifre di questo accordo 150 forse si parlava 150 euro sì 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 da quando Harry gli hanno tolto un po' di appartamenti un po' di rendita ti paghi un anno di Spotify famiglia comunque cioè buttalo via cioè dividono Netflix ancora col fratello e la nonna non lo sa sì sì però entrano nei loro profili e mettono like a che fine ha fatto Sara e a robe del genere così poi gli sballano all'algoritmo secondo me comunque sì 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 comunque hanno creato hanno svelato qual è il primo titolo creato insieme a Netflix ed è una docuserie sugli Invictus Games ora cosa sono gli Invictus Games tu lo sai io ho studiato tu lo sai non hai studiato non ho studiato quindi dimmelo tu esatto praticamente sono delle specie di paraolimpiadi create nel 2014 da il buon Harry e a cui partecipano soltanto veterani di guerra che hanno avuto degli incidenti che sono stati colpiti in servizio diciamo non solo i nobili a cui hanno tolto dei titoli no esatto esatto esattamente non so se all'interno di persone cadute in servizio rientri anche la caccia alla volpe o quelle cose lì che si usano nelle brughiere inglesi ma comunque ti chiedo allora in una scala che va da The Winter and the Falcon no The Falcon and the Winter Soldier esatto che va da The Winter and the Falcon Soldier e arriva a Breaking Bad qual è il tuo grado di interesse ma poi perché The Falcon è così basso non so così io l'ho mollata dopo 30 secondi quando ho visto un tizio che accarezzava con fare voluttuoso uno scudo di Capitano America ho detto ma che cazzo questa roba per favore no comunque no il mio interesse per le docu-serie di Harry e Meghan è davvero davvero nullo poi non parleremmo normalmente nemmeno delle docu-serie però tra l'altro io in maniera del tutto casuale ho preso questa foto in cui si vede proprio la soddisfazione di Meghan di averlo stampato alla famiglia reale e lui che dice madonna che cazzata che cazzata che cazzata che l'homini davano ancora i giocattoli a gratis e invece qua no esatto esatto e tra l'altro devo dire cioè a sto punto volete fare le cose così sui media e tutto fate una roba alla Kardashian quello ha un senso cosa a me ne fesso oggettivamente cosa ce ne frega andare a parlare di sta roba qua dai sarà una cosa strappalacrime devastante 24 ore connessi a loro due quello spaccato è è è o no o no Manu 99 io sento sempre meno il Castelli in realtà questa è una puntata di Coles il Castelli sta passando in un'altra dimensione io non ho idea giuro non ho nessuna idea di cosa no comunque comunque voi dovete capire che il fatto che voi non lo sentiate condanna me a due giorni da qui a venerdì sera in cui lui in continuazione vorrà fare prove testare inizierà a mandarmi e guarda ti è arrivato un messaggio di conferma di Google puoi dirmi qual è quel codice tutte cose così e alla fine arriveremo venerdì e ci sarà un altro problema perché sarà un altro pulsante devono essere stato pigiato adesso la cosa fantastica è che io avevo messo del guadagno audio attraverso una manopola virtuale poi esco e dopo 5 minuti il guadagno audio non c'è più che torno niente non lo vedo più a me sta venire mal di testa con questi sbalzi di volume io vi giuro che non ho nessuna idea di quale sia il problema può darsi che tu abbia ragione che sia un tema di come si chiama di cavo però adesso non lo sto più toccando cioè è qua no invece chiedeva giustamente prima qualcuno se abbiamo già parlato di gresanatomi non ancora cosa è successo a gresanatomi questa settimana ho capito ma è successo prima di pasqua ragazzi e dai una cosa una scena che ti ricordi noi abbiamo già parlato di quando c'erano stati sì le ex e coso sì quindi era quella prima non mi ricordo cosa è successo di gresanatomi dai una cosa niente no vado a cercarlo vado un attimo a informarmi su imdb ah no tranquillo tranquillo non ti preoccupare vado eh allora allora tu vai a vedere in realtà abbiamo finito praticamente le cose interessanti perché tu hai messo un elenco di cose che non sono per nulla interessanti perché vogliamo parlare forse del fatto che l'interprete di Jar Jar Binks ha detto che forse non farà parte della serie su ovvio anche vai così in fondo metto una foto allora perché vai così in fondo metti una foto dai 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 parli di Jar Jar no metto c'è a parte che c'è Mythic Quest che è una roba interessante eh sì ma non posso parlarne io anche l'hai visto tu nel momento in cui tu vai a cercarmi delle cose ma lo dicevi in quel senso lì che non volevi parlare tu è certo no comunque Mythic Quest che è una delle serie che più ci erano piaciute l'anno scorso simpaticona di Apple TV Plus ambientata in Apple TV Plus no di Apple quindi forse era di Hulu scusami ma comunque Bell assume dietro le quinte di una casa di produzione di videogiochi ma faceva super ridere c'era anche Abed comunque è Apple TV Plus è Apple TV Plus sì l'avevi detta giusta vabbè allora l'avevi detta giusta comunque fanno un episodio la seconda stagione scelta tipo il 7 di maggio e poi fanno uno speciale uno speciale il 16 di aprile il 16 di aprile in cui c'è anche guest star Anthony Hopkins random ma così credo solo in voce però credo solo in voce quindi è non so se avete visto il film l'ultimo perché c'è Covid perché c'è Covid ecco c'è l'età comunque se avete visto The Father veramente molto bello lacrimoni lacrimoni The Father ma sai che sì sì ma quasi più che lacrimoni anche tantissima ansia cioè ma ansia cioè quasi paura cioè non so come dire non voglio spoilerare perché ma di lettura sì sì però io lo consiglio moltissimo non credo ci sia nessuna piattaforma del mondo quindi ci chiedono se la serie Made for Love arriverà su Sky non sappiamo perché è HBO Max HBO Max non è la stessa cosa ragazzi non è la stessa cosa e Max non sappiamo ancora come verrà gestito da questo punto di vista sì 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 e quindi niente e poi c'è un'altra roba e questa non so come ah bella questa di HBO questa era bella sì 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 bravo vai tu vai tu vai 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 ho messo la faccia di Jake Johnson che ci fa tanto piacere che faceva New Girl e faceva Super Reader New Girl e fa una nuova serie che in teoria dovrebbe essere un po' comica ma dopo The Deuce Jake Johnson è un po' il chicco dei ragazzi della terza C è quella tipologia lì secondo me ma come attore o come essere umano in generale non lo so perché tu perché vuoi sempre distinguere l'attore dall'essere umano scusa cioè l'artista dall'essere umano vabbè non capisco scusami un po' interrotto scusa sì anche perché io pensavo di avere l'applicazione di IMDB ho scoperto che non ce l'ho ma cosa sta succedendo cosa devo cercarti cosa devo cercarti no volevo volevo Grey's Anatomy volevo ricordarmi che diavolo ha successo in Grey's Anatomy Jake Johnson fa questa serie che dopo HBO aveva già parlato dell'industria del porno in The Deuce che era una serie bella pesa in realtà ma adesso ne fa un'altra sempre ambientata nel passato che parla della prima rivista erotica per le donne però attenzione per le donne che si chiamava Minx e è una serie da mezz'ora quindi più comedi in questo caso non come Deuce che c'è la solita episodi da ora e e ci sarà Jack Johnson e anche ci sarà anche Ophelia Lovibond che ha fatto Elementari ha fatto Trying ammetto che non ce l'ho presentissima cioè non è che era protagonista di tutto allora intanto provo ad accenderti delle lampadine a quanto pare l'ultima puntata c'era un problema di mancanza di ventilatori intesi non ventilatori dell'aria ma quelli penso per il ricircolo dell'aria si 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 c'è stata una puntata no come il ricircolo dell'aria no i ventilatori per il covid eh si qua lo dico si ricircolo dell'aria in terapia no 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 per proprio quelli che si attaccano alla bocca della gente ah ok ho capito ho capito ho capito si c'è stato anche un momento in cui hanno dovuto dire sai come nella realtà dicevano eh dobbiamo decidere chi salvare no quei momenti un po' drammatici qui c'è stato un momento in cui uno dice secondo me possiamo risvegliare Meredith e il capoccia gli dice se però la risvegli e lei ha bisogno ancora del ventilatore e gli abbiamo finiti poi la serie finisce e al che il tizio dice allora facciamo morire tutto il resto dell'ospedale e teniamo Meredith sotto i danni collaterali di Meredith sono questi il fuoco amico di Meredith è stato questo più varie altre robe però non mi ricordo cose super particolari a questo giro vabbè io lo so che tu quando prima mi hai detto non so come se hai potuto fartela scappare ti riferivi alla reunion di friends che viene girata questa settimana ma in realtà abbiamo già detto un po' di quella paurina lì che abbiamo eh un po' l'abbiamo detto che si era peggia diciamo che non è che è paura è panico è panico perché secondo me noi ci stiamo no la verità è che dobbiamo semplicemente sempre questi altri riferimenti eh dobbiamo semplicemente avere in testa che questa reunion di friends non è che fanno degli episodi nuovi non è che fanno è una roba che sarà praticamente in diretta in cui non è detto che recitino ma sarà una specie di ci troviamo tutti insieme e parliamo di friends e forse magari fanno una scenettina che potrebbe essere una roba un po' alla saturday night live però come approccio cioè l'hanno pompata molto sta cosa della reunion come se improvvisamente c'è una e ci sta a pomparla per carità di dio però sembra che c'è l'undicesima stagione di friends ragazzi non c'è nessuna undicesima stagione di friends quindi affrontiamola così affrontiamola così che secondo me riusciamo a portarcela a casa senza troppa ok poi possiamo dire che sono terminate le riprese della seconda stagione di the witcher e penso che questo possa concludersi con questa frase però metto una foto di the witcher in cui la foto fatta fuori dal set con le con le lenti a contatto gialle senza nessun tipo di post produzione è veramente una roba terrificante cioè è brutto avevo visto avevo visto per scrivere per il l'anno scorso la copia lavoro ancora di the witcher in cui c'era ancora il verde non bucato del green in alcune situazioni ed era veramente bellissimo perché figure già ovviamente un uomo di 200 kg di 100 kg che manovra uno spadone non è credibilissimo quando c'è delle robe verdi che spuntano dietro era proprio la morte io credo che il lavoro degli attori di tutta questa roba qui cioè anche degli avengers di tutta questa roba qui sia veramente una roba terrificante ormai perché reciti solo in stanze tutte verdi in cui tipicamente ti ricordi la foto che avevamo fatto vedere di vision che non aveva nemmeno il trucco da vision ma era dipinto di viola tranne le orecchie con dei puntini bianchi addosso cioè un po' sviletto diventa teatro arte teatro d'arte no poi poi ci credo che vanno a fare veramente che vanno a recitare veramente in teatro perché così hanno almeno sì hanno almeno un feedback bene dai secondo me i cose interessanti non ce ne sono più castelli te lo dico no 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 avevo segnato delle cose no mi piaceva dire perché da un punto di vista così emotivo mi sembrava una cosa carina che c'è Neil Gaiman che continua a dire ragazzi American Goals non è finito ma mi sembra aspettate aspettate perché fra un po' succedono di quelle cose mi sembra bellissimo perché io mi vedo la ReStars che lo chiude e poi dice no 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 lo facciamo ancora noi lo facciamo ancora lui dice guarda abbiamo chiuso lascia stare su twitter dice lo facciamo dappertutto non c'è nessuno che si sia fatto avanti ancora per fare ReStars e quindi me lo vedo che fra poco se lo gira a casa sua col telefono però mi piace l'impianto cioè mi piace la determinazione di Neil Gaiman nel mia maratona di office sono arrivato alla puntata in cui parlano del film di Michael Scott Third Level Midnight finché lui si gira da solo in casa e probabilmente sarà la fine che farà Neil Gaiman può darsi però devo ricordare che Neil Gaiman fa una cosa bellissima che io non so se poi fanno altre sue non so se è stato il primo a farla ma non credo che tu la sappia Neil Gaiman ogni tanto quando va in aeroporto perché deve fare un viaggio va nella libreria dell'aeroporto trova tutti i libri suoi li firma e poi twitta se venite nella libreria dell'aeroporto ci sono i miei libri bravo io la trovo una roba meravigliosa c'è anche un gatto no che sono allergico gattino fammi vedere se riesco a far vedere un gatto una volta aspetta vieni Anakin vieni non viene Anakin secondo me non possiamo andare avanti oltre dopo questa scena è stato un bel momento di televisione però è la prima volta è tipo l'ottava puntata che facciamo è la prima volta riesco a far vedere questi beletti gatti un gomitolo nell'angolo molto bello va bene dai ci siamo magari per una volta chiudiamo in maniera più ragionevole cioè come ci eravamo detti una volta facciamo le puntate di mezz'ora di mezz'oretta ci siamo quasi dai 40 minuti va bene ci siamo persi qualcosa di persone che hanno detto cose straordinarie allora no ricordiamo soltanto che tu hai messo Made for Love in testa la classifica delle serie nuove io ancora non l'ho vista e il Castelli era anche un po' preoccupato da questo voleva che la vedessi anch'io per dargli il mio parere per essere d'accordo sul primo posto non l'ho fatto in tempo la guarderò in questi giorni l'ho messo al primo posto perché è una roba che ho visto tre episodi e ho detto oh raga cioè è bello ah no sai con cosa chiudo ho visto chat con l'anticipazione ah pensavo con l'anticipazione che non so se possiamo parlare di chat perché domani esce il podcast esce il podcast domani non ne parliamo venerdì allora no 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 ne parliamo venerdì allora perché il pod è stato registrato prima e fa ridere esatto esatto esattamente e con chi ci sarà con noi venerdì? non ho ancora avuto l'ok ufficiale ah non c'è ancora l'ok ufficiale dovrebbe dovrebbe comunque avremmo un ospite se riusciamo a averlo sarà un ospite particolare che avrà delle cose io credo interessanti da dire sì 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 ma soprattutto state tranquilli so che come dicono l'influencer me l'avete chiesto in tanti sì anche venerdì ci sarà una canzone del cuore di Diego Castelli non vi preoccupate ma sai che Kind of Spark dice ma su youtube vi multano vi multano viste le canzoni della Pausini sai che allora multare no però è successo una volta che abbiamo fatto ho messo che erano giù il video ho messo ho messo una canzoncina che non era alla fine non era free e semplicemente mi hanno detto che su quel video non avremmo potuto monetizzare quindi la cioè la speranza è che tre cosine così prese dal telefono dai no anche se qua è tutto fatto non è ci sono mica persone che guardano è tutto fatto dai avagnetti del web comunque Chiara che dice finalmente il podcast sappiate che settimana prossima ci sarà un'altra puntata ancora del podcast sì pazzesco ma se siete su twitch l'avete già sentita perché mettiamo quella con Luca Restivo esatto stavo per dirti a loro lo dici vabbè lasciamo per vuoi mettere che è bello ascoltarlo nelle cuffiette così nel let mentre abbracci il cuscino di Laura Pausini magari con un audio sistemato da qualcuno che ne capisce incredibile 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 adesso tra l'altro va bene adesso chiudiamo e me la vado a risentire io sta puntata voglio vedere voglio farmi bravo bravo quindi appuntamento domani a partire dalle ore sei del mattino su tutte le piattaforme arriva la nuova puntata di salta intro al nostro podcast domani quindi parleremo così guardano più al nostro esatto non ci saranno ovviamente altri pezzi domani sul sito presenteremo soltanto il podcast venerdì di cosa parli Castelli? che la fai tu venerdì ah sì? eh sì dai vabbè comunque allora allora facciamo credo The Mighty Ducks che è quella The Mighty Ducks che è quella di Disney Plus con Lorelai Gimbo lo spin off lo spin off di DuckTales no Mighty Ducks è il remake di un film vecchio con Emilio Estevez che c'è anche qui e è una roba diciamo per ragazzi diciamo per ragazzi cioè ci sono bambini protagonisti diciamo quindi Disney proprio il classico Disney ma molto godibile molto godibile me ne avevi parlato esattamente usando la parola godibile è simpatico assolutamente simpatico per famiglione ma quella Disney bella di una volta figo molto bene molto bene noi ci risentiamo su questi Lidi sempre con dei cali audio impressionanti oppure non so avremo dei glitch video adesso partono 48 ore di reflusso gastroesofageo finché non risolvono esatto ci rivediamo qui venerdì sera alle 22.30 forse noi due forse con un terzo credito ospite chi lo sa ciao a tutti buonanotte ciao grazie a tutti